Buongiorno, buongiorno, eccoci di nuovo con il maestro Cristian. Bene, oggi facciamo una tarantella, sempre organetto e fisarmonica, live, senza base, senza niente. Che cosa vogliamo ricordare ai nostri amici? Ricordatevi, è gratuito, prementiamolo così siete tranquilli, di iscrivervi ai nostri canali YouTube e Cubano Social, c'è un bel faccino simpatico, è inconfondibile, e Cristian Ruggeri Organetto Music. Questi sono i due canali, iscrivetevi, iscrivetevi, attivate la campanellina, facilissimo, non costa nulla, così ci supportate. Ecco, supportate. E sopportate forse. Ecco, io volevo dire quello. Dai, vai! E sopportate. E sopportate. Ciao!